Estra, tra i principali partner della Fiorentina, il logo della Multi Utility Energetica compare sulla maglia della prima squadra viola per tutte le gare di campionato e di Coppa Italia della stagione 2019-2020. Alti livelli di qualità nel rapporto con i clienti, è di 49 secondi il tempo medio d'attesa al call center e di 11 minuti quello agli sportelli, con i reclami diminuiti del 24% nel 2018. Ancora maggiori i servizi per i clienti, sono 81 gli store e i punto clienti Estra nel 2018, distribuiti su gran parte del territorio nazionale, 52 nel centro Italia, 29 nel sud Italia. Estra, con la controllata Centria, ispeziona ogni anno il 100% della rete gas per la ricerca delle perdite, una garanzia per la sicurezza dei cittadini e per la continuità nella fornitura del metano.